Un giocatore che c'entra poco nulla con questa categoria. Adesso te lo posso dire, Raffia, sia i colleghi, ma perché l'ha detto Vivarini, ora si può dire il tecnico del Catanzaro, somiglia a Zidane in campo con le dovute proporzioni. Grazie al mister di Catanzaro, io sono concentrato sulla squadra e sugli obiettivi di fine stagione. Stai facendo un grande campionato, primo tempo importante per la categoria. Peccato che non si è riuscito a trovare il gol, ma continuando così prima o poi arriva. Sì, sono contento per Mero, Facu, Kola che hanno fatto davanti a una grande prestazione e noi a Cento Campo lavoriamo per la squadra, per far giocare la squadra. Zeman è un tecnico molto famoso, conosciuto magari quando tu eri bambino, Zeman già era ad altissimi livelli. Ti aspettavi questo Zeman? Dico la verità, io l'ho conosciuto con l'anno di Verati in segna immobile e quando è arrivato non mi sono chiesto niente. Ho fatto quello che ha chiesto il mister, quello che dobbiamo fare, adesso sta andando bene e meglio così. I gradoni come sono? L'ho mai fatto nella mia vita, l'abbiamo fatto con il mister e si vede che nel campo siamo molto meglio fisicamente, io per primo, riesco a finire le partite, riesco ad andare forte e il lavoro paga, si è visto ancora oggi. Ti chiedo un'ultima cosa, poi deve lasciarci Raffià, quando vai uno contro uno con l'avversario, poi sterzi verso l'esterno con l'esterno destro, è lì che assomiglia a Zidane? No, 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 Zidane è un'altra categoria, non è passato per la C, io sono ancora in C, faccio il migliore possibile e sono contento.